Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci duriamo su Fortnite per iniziare questo video vi ricordo che sul canale attivo un contest 10.000 V-Bucks Vi lascio il link per come partecipare a questo contest qua sotto in descrizione perciò al termine di questo video aprite la descrizione e cliccate sul link così vedete come vincere anche voi 10.000 V-Bucks Moltissimi di voi mi avete inviato questa immagine qui che vedete sul monitor perché sembra che l'Epic Games abbia commesso un errore nel rilasciare in anticipo questa nuova patch, questo nuovo aggiornamento V.8 Cioè ovviamente della Season 8 però sono andato ad analizzare questa immagine che io avevo già trovato prima però non vi ho portato nulla perché secondo me non è niente di vero Comunque la andiamo ad analizzare insieme, la andiamo a vedere insieme perché può essere anche che è vera, io non credo però e se ha creato dell'interesse da parte vostra anche altre persone sicuramente sono curiosi di sapere se questa è una vera immagine che ha spoilerato l'Epic Games per errore oppure si tratta di un banalissimo fake-stra-fake Allora partiamo con la descrizione andiamo a leggere cosa ci dice La stagione 8 inizia quando un devastante terremoto fa a pezzi l'isola Scopri cos'è cambiato in luoghi come pinnacoli pendenti e polar peak, picco polare E avventurati nel sottosuolo in aree appena esplorate quindi si parla già di aree sotto la mappa di Fortnite Un po' futuristico ma ci potrebbe stare Dai un'occhiata al nuovo pass di battaglia e continua a personalizzare la tua esperienza con sfondi sbloccabili nella lobby sbloccando nuovi stili per tutte e sei le skin personalizzabili Io già qui ho mi avvenuto qualche dubbio perché tutte e sei le skin personalizzabili quando solitamente nella season 7 e nella season 6 invece di avere 6 skin fornite gratuitamente al momento che acquistiamo il pass battaglia Ce ne abbiamo 7 come potete vedere qui in questa season attuale abbiamo drog, polvere, lynx, il re dei ghiacci, babbo natale, cattivo, calzamaglia e quest'altra skin che ora non mi ricordo il nome Comunque quello che a noi interessa è che sono 7 skin e non 6 come è stato anche per la season 6 infatti parlavamo sempre di 7 skin e non 6 Torniamo però all'immagine e continuiamo vediamo un po' che cosa ci dice Sperimenta il lancio ufficiale di Fortnite modalità creativa e usa tutti i nuovi prefabbricati dispositivi e armi sulle tue isole per salvare i mondi Combatti contro la tempesta usando il nuovissimo e rinnovato sistema di eroi Qui diciamo c'è la lancia un po' in modo casuale, non ci dà grandi informazioni su questa nuova season 8 Però la parte fondamentale che a noi interessa è questa qui dove dice un devastante terremoto fa pezzi l'isola, cioè la parte iniziale Scopri cosa è cambiato, i luoghi come Tilted Towers o Polar Peak e avventure nel sottosuolo in aree appena esposte Speriamo appunto che vado ad indicare che ci siano delle aree sotto al suolo, sarebbe molto figo ma io non credo Allora andiamo ad analizzare bene questa immagine, come vedete andiamo a vedere il link di renderizzamento di questa immagine Ci dice EpicGames.com, Fortnite, poi la lingua quindi Stati Uniti, PatchNotV.8 E ci può stare anche se magari voi la trovate una cosa sbagliata perché guardate, io qui nella stagione 7 ho Epic Games, Fortnite, la lingua Poi ho News a differenza e poi Take Two Day Skins in Season 7 Mentre qui avevamo PatchNotV.8 Anche qui la stessa cosa, infatti invece di avere PatchNot dopo la lingua abbiamo News Però è una situazione totalmente normale perché come vi faccio vedere da quest'altra immagine, questa è sempre un'immagine che ho preso io personalmente Mi trovo, non sono io che sono sul PC, ecco qui sto scorrendo Come vedete c'è scritto PatchNotV.7.40 Quindi non c'è più News come vediamo in quest'altra, sì sono dopo la lingua Ma abbiamo PatchNot, questa è una cosa molto molto semplice perché dobbiamo andare a vedere dove prendiamo questo link E quindi il renderizzamento, il percorso di questo link Quindi come URL ci può stare benissimo, però vi ricordo che quest'URL è facilmente cambiabile Quindi magari se io vado a scrivere, non lo so, polveredistelle.news Come vedete io ho scritto una cosa orribile, ok? Polveredistelle.news E comunque sono in questa pagina Che cosa vi voglio far vedere con questo? Che è facilmente cambiabile l'URL e mettere un'immagine sotto con qualsiasi testo e con qualsiasi video Infatti mi sono andato a informare, non c'è nessun trailer ufficiale della Season 8 Non c'è niente che ci faccia capire qualcosa sulla Season 8 Ci sono questi trailer che girano su YouTube ma sono totalmente inventati dai fan, dagli utenti Quindi vi pare che qualcuno è riuscito ad avere prima degli altri questo accesso alla PatchNot V.8 E ci lascia solamente questa immagine non facendoci vedere il trailer ufficiale della stagione 8 di Fortnite Secondo me è assurdo Comunque per completezza guardiamo un po' di nuovo l'immagine di questa presunta stagione 8 di Fortnite Ma come potete vedere, come vi faccio vedere Fortnite rilascia sempre sotto al titolo la data e poi da chi è stata rilasciata Questa era la patch della stagione 7, c'è la data e c'è il team di Fortnite Questa invece è la stagione 6, la data e il team di Fortnite Un dettaglio molto importante che manca a questa immagine perché Fortnite si comporta sempre così Infatti sotto al titolo va a mettere sempre la data con il creatore di questo post, di questo contenuto E qui nella foto della presunta season 8 manca completamente Io vi ricordo che ogni volta che si sta avvicinando una nuova season in Fortnite succede il delirio più totale Infatti nella precedente season quando tutti aspettavamo l'uscita della season 7, quindi l'arrivo della neve Io stesso sono stato fregato da un utente, da un genio perché aveva fatto un capolavoro Dove appunto ci faceva vedere questo trailer falso con l'arrivo, mi ricordo ancora di tutti gli aerei Con la skin di battuta di caccia, i maghi che creavano la neve Io ci avevo creduto in pieno, ci ero cascato con tutte le scarpe perché ero strafomentato, straippato da questa season 7 Mi sembrava assurdo che un utente si poteva mettere a creare una cosa del genere Invece poi sono stato totalmente smentito perché quel video si trattava di un chiarissimo fake E io in quel momento non c'ero per niente arrivato Mentre ora con l'esperienza magari che ho maturato, visto l'andamento delle scorse season Dubito fortemente che qualsiasi cosa che noi vediamo da qui alla fine della season 7 sia qualcosa di ufficiale della nuova season Fortnite blinda queste informazioni importanti, questi dati sensibili della season 8 in questo caso Infatti non credo per niente che riusciremo mai a far trapelare qualche trailer o qualche informazione riguardante la patch V8.0 in questo caso Perciò signori secondo me si tratta di un fake strafake, di un chiarissimo fake strafake Come vi ho fatto vedere mancano alcuni dettagli importanti che Fortnite rilascia sempre Quindi si tratta di un dato sicuro al 100% Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa immagine della nuova season 8 Se sia veritiera, se sia fake, voglio sapere anche la vostra opinione Mi raccomando se siete nuovi iscrivetevi e attivate la campionata delle notizie Un bel like su questo video e fate girare questo video condividendolo con i vostri amici Almeno anche loro si rendono conto che la notizia che sta girando su questa nuova season 8 Si tratta di un palese fake da parte mia Poi magari mi smentirò ma ne dubito fortemente Perciò signori noi ci vediamo più tardi con una live che dovrebbe startare all'incirca intorno alle 3.30 E finire prima perché questa sera mi andate a vedere Roma-Bologna Perciò ne parleremo anche in live se vi farà piacere stare con me E andare di nuovo a trovare qualche pro nei server privati E... Le belle! Mesami!